Termina 1-1 tra Torsa e Grossetto e sulla ruota del Vannisanna esce il risultato previsto che conferma le tendenze di entrambe le squadre Quella dei sasseresi che quando sono chiamati a fare la partita si trovano in grossa difficoltà Contraposta a quella dei ragazzi di Allegri al quinto pareggio su otto gare La Torsa si presenta con un inconsueto modulo 4-3-2-1 con evacuo unica punta supportato alle spalle da Marchini e Frau La cronaca vede i sasseresi vicino alla retta nel primo minuto di gioco Frau taglia bene una punizione dentro l'area, Morello colpisce di testa a botta sicura, la palla esce fuori di qualche centimetro La reazione dei Maremani è affidata alla rovesciata di Pellicori e alla conclusione dalla distanza di Di Santo La partita non si sblocca, sembra incanalarsi sul consueto cliché quando arriva un rigore per il rosso e blu Il fallo di mano di Di Santo su angolo basso di Frau lo vede solo il guardialine di destra Del penalty si incarica finalmente lo specialista Alessandro Frau che non sbaglia, la mira e realizza la sua terza rete personale su quattro incontri da titolare Alla 49esima arriva il pareggio dei Toscani, fattuto Di Santo che attraversa indisturbato in orizzontale tutta l'area rosso e blu La palla termina nei piedi di Pellicori che non ha difficoltà ad infilare la porta avversaria Squadra è negli spogliatori, al rientro Cucuridu inserisce a pesce al posto di Pederzoli e ritorna al più consueto 4-4-2 I risultati si vedono nella prima parte Un cross del nuovo entratto viene smanacciato maldestramente dal portiere Rossi ed evacua a porta vota, sciupa banalmente Poi è Marchini sul cross di Merda, il suo tiro viene smorzato in angolo ed è con questo tiro di pesce che si esaurisce la vena della Torres I maremani a quel punto provano a vincere ma è Tore Pinna che salva il risultato Prima sul calcio di punizione di Cipolla e poi su una conclusione da due passi di Lacan